Si è svolto presso l'auditorium del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli la manifestazione finale del 21esimo concorso di poesia Alfonso Gatto. Protagonisti della manifestazione, i ragazzi che attraverso la lettura e la scrittura dei lavori realizzati in occasione del premio hanno dato prova di quanto il vento tema del concorso sappia essere una guida universale. La cosa più interessante probabilmente è che in questo progetto quest'anno confluiscono anche due progetti PON, l'uno legato al piacere della lettura e l'altro al nordic walking. Sembrano quasi una discrasia, sono due progetti completamente diversi ma che giungono ad uno stesso obiettivo, quello di avvicinare i ragazzi alla loro espressività maggiore, cioè quella che è la poesia, la prosa. Le liriche quest'anno avevano come tema il vento che è un tema veramente molto suggestivo e i ragazzi hanno prodotto delle poesie che hanno veramente emozionato tutti i presenti a questa bellissima manifestazione. I ragazzi hanno avuto anche un piccolo riconoscimento da parte della scuola, un contributo che possono liberamente spendere per i loro acquisti. Sono stati bravissimi, abbiamo avuto persino difficoltà nella scelta delle liriche vincitrici, tanto è vero che alcune meritevoli tanto quanto le vincitrici hanno avuto una menzione speciale. È stata un'esperienza bellissima per i ragazzi, hanno ritrovato la bellezza che è dentro di loro. Per me è una bella emozione l'undicesimo anno consecutivo che vengo ad Agropoli e tra l'altro, come ho detto già in altre circostanze, Agropoli è stata la prima scuola, è stata la prima città a intitolare una scuola ad Alfonso Gatto, ancora prima di Salerno che è la sua città natale. Quindi per me c'è un legame particolare e quindi un senso di conoscenza verso questa scuola e tra l'altro ogni anno assisto a delle manifestazioni sorprendenti, una manifestazione che cresce sempre più. Quindi si vede che c'è non solo l'impegno dalle insegnanti ma c'è da parte dei ragazzi, dei giovani una passione e tra musica, tra recitazione e lettura delle liriche insomma è un premio di poesia completo. Noi siamo come città di Agropoli veramente orgogliosi che il nostro istituto porti il suo nome, questi sono dei presupposti importanti affinché questo premio possa a lungo durare nella storia della nostra città. È bello vedere come crescano, come è cresciuta la scuola, per me è stato un ritorno alle origini, quello di oggi ma anche quello insomma la partecipazione al laboratorio di scrittura, di lettura e scrittura. Quindi assolutamente una grande soddisfazione. Penso che la poesia sia una delle espressioni attraverso i quali i ragazzi riescono in qualche modo a esprimere il proprio pensiero, la propria parola. Quindi questo concorso rivolto a tutti i ragazzi è sicuramente un concorso che li coinvolge e in qualche modo fa loro scoprire magari un talento che neanche conoscevano e sapevano di avere. La poesia è bellezza, la poesia è qualcosa che nasce dentro, che nasce dall'anima e che ci porta a cambiare il nostro modo di essere, il nostro modo di vedere le cose. Ognuno di noi dovrebbe ogni tanto chiudersi in una stanza, occhi aperti, al buio totale, almeno per 30 minuti al giorno, ascoltare il suono del silenzio. È questo che fa la poesia.